Questa è una storia di denunce, tante denunce praticamente inascoltate. Sono più di 23 anni che questo individuo perseguita verbalmente e anche fisicamente mio padre, aggredendolo diverse volte, ci sono state tante denunce. L'ultimo anno ho cominciato a prendersela anche con me. Diciamo che questo soggetto ce l'ha un po' con tutti, perché a quanto pare ho avuto modo di assistere a delle aggressioni nei confronti dei vicini. Tutte persone che hanno testimoniato? Alcuni so che hanno testimoniato, voi altri magari non vogliono imbattersi con un muro di omertà, oppure chi ha paura posso capire benissimo, però se nessuno denuncia lo stato attuale non si può più andare avanti, non si può più vivere così. Lei nei suoi denunce ha anche parlato di un coltello? Sì, sono stato minacciato più volte con un coltello, dove questo soggetto è entrato dentro la mia proprietà, ha minacciato me e la mia compagna, quindi eravamo in due. Abbiamo fatto la denuncia, quindi... È intervenuto anche il sindaco qui? È intervenuto, sì, tramite una terza persona, è intervenuto anche il sindaco, dove mi continuano a dare i contentini e non mi danno delle risposte, che vogliono qualcosa in mano, ma non so se vogliono l'autopsia di qualche poveretto che alla fine ci rimetterà la vita. Cosa è accaduto? Perché è dovuto ricorrere alle cure mediche? Perché io non lo conoscevo, non sapevo chi era questo qua, non l'avevo mai visto. Io rientro a casa mia qua e mi ha lanciato una bottiglia di birra da sopra e mi è frantumata a 60 centimetri da me, quindi per le mie impiti di birra e di schegge di vetro. E allora io l'ho dovuto denunciare, questa è la prima volta. Poi è stato condannato a una multa e ha fatto una multa al tribunale di Teramo. Successivamente poi ha ripetuto un altro episodio. Io camminavo qui insieme a un amico, quindi andavamo a prendere un caffè, quindi appena uscito dalla mia proprietà qui, che è stata privata pure questo, lui di botto mi ha preso per la gola e mi ha scaraventato contro il recinto di questa palazzina qui dietro, di questa casa qui dietro, dicendo che io sto solo al comune, che faccio quello che mi pare, io che comando Teramo, qua tutte queste cose qua insomma. Allora a questo punto noi di Vera TV andremo a chiedere lumi e ragioni al Signore e questa storia ovviamente non finisce qui.